Il sindaco di Agrigento Francesco Micciche, con determinazione sindacale numero 100 del 2 novembre 2020, ha attribuito l'incarico di capo di cabinetto del sindaco al dottor Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni. Nel documento di assegnazione viene spiegato che nell'emore della definizione del nuovo organigramma si è deciso di assegnargli la dirigenza del servizio quarto, del settore primo, del servizio quinto, del settore sesto, limitatamente alla pubblica istruzione. Il dottor Di Giovanni avrà quindi la possibilità di avvalersi delle risorse umane, logistiche e strumentali in atto assegnate a questi servizi. Il dottor Di Giovanni ricordiamo che in atto è anche comandante della polizia municipale. Intanto il sindaco in questo video dice la sua contro chi le muove e le accuse sulla situazione igienico-sanitaria. C'è chi afferma che il sindaco pensa solo a raccogliere rifiuti in via Atenea e non a San Leone. Continuo ancora la mia amarezza perché vengo sistematicamente accusato sulla situazione igienico-sanitaria della città. Ma chi in questo momento mi accusa, a due settimane dal mio insediamento, accusa in realtà la vecchia amministrazione. E non mi sembra assolutamente giusto accusare chi in questo momento non può più difendersi. Nella fattispecie mi è stato accusato di pensare per la via Atenea e non pensare ai sacchetti di immondizia che si trovano nel lungomare di San Leone. Perché sono fermi lì da martedì scorso. Ebbene, io in maniera parallela e a 360 gradi mi sto occupando di tutte le problematiche della nostra città. Cosa vengo a scoprire studiando anche sul contratto dei rifiuti? Ebbene, mi sono trovato sul mio tavolino il contratto della raccolta dei rifiuti e in questo caso relativamente ai sacchetti che gli esercenti del lungomare e di San Leone in genere lasciano fuori la sera. E scopro che era stato previsto ed è quindi attualmente previsto che questa raccolta viene effettuata ogni settimana. Quindi quelli che voi avete visto lì da martedì scorso in teoria devono venire raccolti martedì prossimo e c'è domani mattina. Ma questo me lo sono trovato. E mentre pensare per la via Atenea è un solo pensare perché sto pensando cosa posso fare per migliorare la vita e l'economia della mia città. Per quanto riguarda un contratto capite bene che non basta soltanto pensare per modificare un contratto. Modificare un contratto vuol dire riunire le associazioni sindacali, riunire le varie aziende, esaminare le criticità, rieffettuare eventualmente un bando, una gara, un nuovo contratto. Quindi non si può fare dall'oggi a domani. E ripeto, se attaccate me, attaccate la vecchia amministrazione e ripeto non è giusto attaccare chi ha operato prima di me, perché anche loro penso avranno avuto delle grosse difficoltà. Scusate il tono della voce, non è il mio costume, però a volte anche io non riesco a contenermi.